Benvenuti in questo video, in cui cercheremo di dare risposta ai perché che riguardano un predatore degli oceani, considerato il delfinide più grande per fama e dimensioni, stiamo parlando dell'orca. Ma perché alle orche è stato attribuito l'appellativo di, assassina? Questo nome è diventato famoso grazie a un noto film degli anni 70, ma ha radici profonde nella reputazione predatoria di questi straordinari cetacei. Il termine, orca assassina, ha guadagnato notorietà grazie a un film dell'anno 1977 con lo stesso nome, tratto da un romanzo di Herzog. La trama del film ruota attorno a un incidente in mare, in cui una femmina di orca incinta viene uccisa durante una battuta di caccia, mentre il suo compagno osserva impotente e disperato. Questo tragico evento scatena una serie di circostanze avverse, poiché il maschio cerca vendetta, portando a conseguenze drammatiche. In realtà la parola orca deriva dal termine latino orcinus orca, mentre l'espressione orca assassina è utilizzata, in larga misura, nel mondo anglosassone. Il mammifero è definito assassino in virtù di una leggenda risalente al XVIII secolo, tramandata oralmente da alcuni balenieri di origine spagnola. Essi ebbero l'opportunità di osservare da vicino la tecnica di caccia alle balene messa in atto dalle orche. In numerose occasioni, questi marinai assistettero agli attacchi orchestrati con precisione e pianificazione. Tali attacchi erano tutto tranne che casuali, le orche avevano un metodo ben definito. Prima di tutto, per indebolire la balenottera e il suo piccolo, le orche mettevano in atto una caccia incessante. Alcune di loro balzavano sopra il cucciolo, cercando di impedirgli di respirare, mentre le altre si lanciavano contro la madre, impedendole di proteggere il suo piccolo. In quasi tutti i casi, questa caccia brutale terminava con la tragica morte del cucciolo, affogato per mano delle orche. A volte, queste feroci creature si gettavano sul corpo del cucciolo, divorandolo, e poi lasciavano andare la balena madre esausta. In altre occasioni, le orche arrivavano a uccidere anche la madre, causandone il dissanguamento. Assistendo a questa violenta sequenza di eventi, i marinai dei balenieri spagnoli iniziarono a soprannominare queste incredibili creature, assassine di balene. Questo soprannome fu tradotto dagli inglesi come, killer whales, che significa, balene assassine, da cui la più accurata traduzione, whales killers, che sarebbe, assassine di balene. Quest'ultima forma sarebbe stata più fedele all'appellativo originale. Le orche sono una specie cosmopolita, il che significa che sono diffuse in ogni angolo degli oceani e dei mari. La loro versatilità le porta a vivere in acque fredde o temperate, sia vicino alle coste che in mare aperto. Sono particolarmente abbondanti in regioni come il Nord America, l'Australia, la Nuova Zelanda e il Giappone. È relativamente facile avvistarle nelle acque del Nord Atlantico e dell'Antartico, mentre è più raro trovarle nell'Oceano Artico, nelle zone tropicali o nel Mar Mediterraneo. Le orche si distinguono in tre ecotipi distinti. Orche marittime, queste popolazioni risiedono molto lontano dalle coste, a circa 20 chilometri dal litorale, e formano gruppi molto numerosi, talvolta fino a 75 individui, sono capaci di migrazioni su lunghe distanze, arrivando a migliaia di chilometri. Inizialmente si credeva che si nutrissero principalmente di pesci, ma in realtà si è scoperto che cacciano soprattutto squali, compreso il temibile squalo bianco, e fanno parte della loro dieta anche le balene. Questo gruppo di orche, più piccolo rispetto agli altri due, ha alette dorsali con punta arrotondata. Si trovano dall'area del Messico fino all'Alaska ed è stato scoperto solo nel 1988, prendendo il nome di offshore, o, a largo, orche di passaggio, queste popolazioni si spostano costantemente lungo le coste, coprendo grandi distanze nelle loro migrazioni. Si raggruppano in piccoli gruppi di almeno 10 individui e prediligono prede come fuochi e leoni marini. Le loro caratteristiche alette dorsali sono triangolari e appuntite. Orche residenti, queste orche vivono in aree limitate vicino alle coste e le loro migrazioni sono di breve raggio. Hanno alette dorsali curve con la punta arrotondata e si riuniscono in gruppi numerosi, anche fino a 60 individui. La loro dieta è principalmente a base di pesci e calamari e presentano una riproduzione endogamica. Tuttavia, una specie di orche residenti, a causa dello strano comportamento, ha fatto sorgere una domanda agli scienziati. Perché queste orche molestano e addirittura uccidono le focche senza mangiarle? Per decenni, le orche del Pacifico Nord Occidentale sono state osservate mentre tormentavano e addirittura uccidevano le focce senza mangiarle, un comportamento sconcertante che da tempo incuriosisce i scienziati. Esaminando più di 60 anni di interazioni registrate tra le orche e le focene nel mar di Salish, uno studio pubblicato su Marine Mammal Science prova a dare una spiegazione a questo fenomeno. La popolazione canadese di orche, che comprende appena 75 esemplari, è considerata ad alto rischio di estinzione. Si nutrono di pesce, il loro cibo principale è il salmone reale, che a sua volta è a un passo dalla sparizione a causa della pesca intensiva. Le orche che si nutrono di pesci manifestano un'ecologia e una cultura del tutto dissimili rispetto alle orche che si cibano di mammiferi marini, anche se le due popolazioni vivono nelle stesse acque, quindi dobbiamo concludere che le loro interazioni con le focene hanno uno scopo diverso. Lo studio, al quale hanno partecipato università e centri di ricerca, suggerisce le tre seguenti spiegazioni. Per le orche le molestie alle focene possono essere una forma di intrattenimento sociale. Come molte specie intelligenti, questi cetacei a volte si dedicano ad attività giocose per creare legami, comunicare o semplicemente divertirsi. Questo comportamento potrebbe favorire il coordinamento del gruppo e il lavoro di squadra, potrebbe anche essere un allenamento per la caccia vera e propria, le orche usano le focene come bersagli mobili, per affinare la loro tecnica che poi applicano alle prede. Infine, c'è l'ipotesi più affascinante, le orche potrebbero vedere le focene come animali deboli, malati o in difficoltà, e tenterebbero quindi di prendersi cura di loro. Una manifestazione della loro naturale inclinazione ad assistere gli altri nel gruppo. Sono state viste femmine trasportare i loro cuccioli deceduti e anche focene. Sono tre possibilità molto diverse tra loro, e secondo gli autori dello studio potremmo non scoprire mai qual è quella corretta. Quello che sappiamo con certezza è che le orche residenti nel mar di Salish non consumano le focene, e dato il loro regime alimentare altamente specializzato basato sul salmone reale, è improbabile che cambino questa abitudine solo perché il loro cibo preferito scarseggia. Passiamo ora ad un altro quesito. Osservando le orche attraverso i documentari e parchi acquatici, anche ai bambini più attenti è sorto spontaneo porre la domanda, perché certe orche hanno la pinna piegata? Infatti, circa l'1% dei maschi di orca presenta il fenomeno del collasso della pinna dorsale. Secondo gli esperti, ciò può avvenire a causa dell'invecchiamento, di combattimenti o dello stress. Sorprendentemente, il 100% dei maschi di orca in cattività sembra essere affetto da questo problema. Per comprendere meglio il fenomeno, dobbiamo scendere nei dettagli dell'ecologia delle orche. In mare aperto, questi maestosi cetacei nuotano per centinaia di chilometri ogni giorno, e la pressione dell'acqua aiuta a mantenere le loro pinne dritte e in salute. Tuttavia, nei confini degli acquari, gli animali spesso non possono nuotare quanto e quando dovrebbero, il che sembra contribuire al collasso della pinna dorsale. Secondo Sea World of Earth, un sito web gestito dall'Organizzazione per i diritti degli animali PETA, questo è uno dei motivi principali del collasso della pinna dorsale nelle orche in cattività. Inoltre, la loro dieta in cattività è spesso molto diversa da quella che seguirebbero in natura, il che potrebbe anch'essa contribuire al problema. Ma qual è il ruolo della pinna dorsale? Alcune teorie suggeriscono che aiuti le orche nell'idrodinamica, permettendo loro di scivolare meglio nell'acqua. Altre affermano che serve a regolare la temperatura corporea, poiché rilascia calore in eccesso durante attività intense come la caccia. Orca Live concorda sul fatto che calore in eccesso, generato mentre nuotano, viene rilasciato nell'acqua e nell'aria circostanti attraverso la pinna dorsale proprio come un radiatore. Infine, è importante sottolineare che il collasso della pinna dorsale è molto più diffuso nelle orche tenute in cattività rispetto a quelli in libertà. Altra differenza sostanziale è l'aspettativa di vita che per gli esemplari in libertà è in media di 80 anni per quelli in cattività scende a 30 anni. Questo non vuole essere un attacco contro i parchi marini, molti dei quali trattano i loro ospiti acquatici con grande rispetto e amore. Tuttavia, osservare queste magnifiche creature in mare aperto offre un'esperienza emozionante e unica, che non può essere replicata in cattività. Quindi, il mistero della pinna dorsale delle orche potrebbe essere legato a una combinazione di fattori, tra cui cattività, dieta, e la loro vita in mare aperto. Speriamo che questo video ti abbia aiutato a comprendere meglio questo affascinante aspetto delle orche. Se ti è piaciuto il video, non dimenticare di mettere mi piace e condividerlo con gli amici appassionati di natura e vita marina. Ringraziando per averci seguito, rimandiamo il nostro appuntamento al prossimo video.